Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora, quando vi ho fatto il mukbang qualche giorno fa in cui vi dicevo che sto con una persona che c'è adesso, una persona accanto a me e volevo anche ringraziarvi per tutti i bellissimi messaggi ma questa è un'altra parentesi vi avevo accennato al fatto che mi ero resa conto che stavo autosabotando questa relazione e mi sono resa conto di tutti i meccanismi che c'erano nella mia testa quando per puro caso ho visto il video di una psicoterapeuta su tiktok che parlava proprio di questo argomento me l'ha mandato proprio l'universo nel momento in cui mi serviva di più perché mi sono esattamente resa conto di tutto quello che stavo facendo e che effettivamente i miei comportamenti riflettevano questo meccanismo diciamo, chiamiamolo così e in quel video mi avete chiesto davvero in tanti di farvi un video dedicato all'autosabotaggio nelle relazioni per parlarne più nello specifico e quindi eccomi qui a farvi questo video come promesso ci tengo come al solito però quando faccio dei video un po' più diciamo seri specialmente argomenti di questo tipo ci tengo a specificare e iniziare questo video dicendo che io non sono una psicologa non sono una psicoterapeuta vi parlo un po' da sorella maggiore e vi racconto della mia esperienza personale quello che mi è capitato mi capita tuttora perché è un meccanismo purtroppo che è sempre un po' presente e bisogna essere coscienti di questo fatto per non cadere nelle trappole della nostra mente se non siete familiari con questo argomento l'autosabotaggio nelle relazioni capita soprattutto quando si è usciti da delle relazioni che ci hanno fatto soffrire molto magari abbiamo avuto a che fare con persone tossiche molto manipolative che ci hanno lasciato magari un'insicurezza verso il prossimo e quindi questo un po' tende a rovinare magari invece una relazione che è bella e sana perché abbiamo nella nostra mente questo un po' quest'idea che però non era almeno per quanto mi riguarda non era un'idea di cui ero conscia cioè non mi rendevo conto di ciò però avevo nella mia mente questa idea ok sono stata ferita in passato non permetterò mai più a nessuno di ferirmi e quindi che cosa facevo e mi sono resa conto di averla fatta anche con il ragazzo che frequentavo l'anno scorso questa cosa mi sono resa conto solo adesso di averla fatta ma va bene così perché quello non era cioè gli voglio bene ma non era il ragazzo per me mentre sono molto felice adesso in questo momento quindi tutto doveva andare come doveva andare però mi sono resa conto che avevo questi meccanismi per i quali dicevo che io non voglio mai più soffrire nella mia vita e quindi tentavo di trovare il pelo nell'uovo mi attaccavo alla più minuscola cosa per dire ah ecco vedi cioè sei l'ennesimo str mi farai del male quindi devo proteggermi e ti mollo prima io questo è praticamente il succo di quello che io facevo cioè per farvi un esempio ce ne sono miliardi veramente di esempi però per farvi un esempio se mi scrivevo con questa persona e vedevo che magari non rispondeva subito pensavo subito ah vedi sei come tutti gli altri fai i giochini quando poi mi sono resa conto che cioè io pure faccio così ma non perché lo faccio opposto perché faccio i giochini cioè non è che posso sempre rispondere subito c'è nel senso no sono quelle cose che magari tu fai e sono normali ma quando le fa un'altra persona tu subito pensi al peggio ecco questa è una cosa un po' tipica di chi tende ad autosabotare le proprie relazioni che non sono solo amorose badate un po' quest'idea di pensare sempre in negativo cioè io pensavo sempre allo scenario peggiore cioè la persona era online e non mi rispondeva ecco con chi ti stai messaggiando cioè veramente ma non perché io fossi particolarmente insicura più che altro avevo paura di incontrare l'ennesimo caso umano e quindi mi tenevo talmente a distanza e mi sono reso conto che non ero neanch'io pronta ad aprirmi in realtà cioè non ero pronta ad una relazione perché volevo che l'altra persona si aprisse nei miei confronti ma io ero la prima a non farlo proprio perché per la paura di essere ferita e questo è stato esattamente quello che ho fatto appunto con il ragazzo che frequentavo l'anno scorso non mi fidavo non ero assolutamente pronta ad aprirmi non volevo farlo e ogni piccola cosa la interpretavo in negativo cioè pensavo al peggio per ogni singola cosa pensando al peggio anche di lui in realtà perché poi ho detto ok se tu sei così fai ste cose allora sei un player sei un manipolatore non va bene per me eccetera eccetera fino ad arrivare al punto in cui io ho bloccato tutto dicendogli chiaramente no non va così non va che per certi versi va anche bene che io l'abbia fatto perché per certe cose veramente non è autosabotaggio ma proprio non saremmo stati compatibili ma più che altro appunto ero io che cercavo la minima cosa negativa per poi autoconvincermi che quella cosa negativa significasse che questa persona era completamente negativa cioè mi sono fatta dei castelli in aria per poi bloccare il tutto perché perché nel mio inconscio cioè io non mi rendevo conto di questa cosa però nel mio inconscio pensavo ok prima che tu riesca a farmi del male prima che io mi attacchi troppo a te sono io a mollarti perché così non ti do nemmeno la possibilità di farmi del male perché cioè io ho già solo la possibilità di aprirmi e di essere vulnerabile con qualcuno era una cosa che praticamente non sopportavo e quindi ho troncato io tutto subito e immediatamente sono appunto dei comportamenti tipici e forse l'universo ha voluto che io mi rendessi conto di questa cosa prima di sabotare la mia attuale relazione che è una cosa a cui tengo tantissimo a questa persona ci tengo veramente veramente tanto ed è una persona che con me si comporta in modo impeccabile veramente quindi non sarebbe stato giusto autosabotare questa relazione ma lo stavo quasi facendo adesso senza entrare nei particolari ma mi stava succedendo la stessa identica cosa e dopo aver visto questo video di questa psicoterapeuta mi sono resa conto che facevo esattamente tutte le cose che lei stava elencando praticamente pensavo allo scenario peggiore ogni volta per il nulla cioè per cose che io stessa faccio e che sono normali e questo mi ha fatto pensare un attimo wow 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 poi sono andata a rileggermi perché quel giorno stavo un po' sclerando sono andata poi a rileggermi la conversazione dopo aver ascoltato appunto il video di questa psicoterapeuta che parlava di autosabotaggio e mi sono resa conto che tipo mi ero fatta tutto castellinare cioè vedevo cose negative dove non esistevano e qual è il problema di quando tu vedi delle cose negative che in realtà non esistono e te le immagini tu perché sei talmente terrorizzata dal farti ferire il problema è che poi tu reagisci negativamente su queste cose che appunto ricordo non esistono quindi io tendevo ad essere fredda magari pensavo che adesso ti rispondo male oppure magari più che altro pensavo ok adesso apposta ti rispondo tra ore perché tu mi hai detto così e mi sono resa conto che questi sono tutti comportamenti manipolativi tutti comportamenti non sani che non volevo avere in questa relazione perché voglio che sia una relazione sana voglio dire tutto al mio compagno e voglio che lui mi dica tutto e sono contenta che sia così ma non è stato semplice arrivare a questo punto e devo sempre ricordarmi di questa cosa perché tendo purtroppo a cercare il pelo nell'uovo per potermi proteggere e scappare e andarmene la cosa importante secondo me è essere consci che abbiamo questi meccanismi interni perché una volta che ti rendi conto di questi comportamenti riesci a dargli un perché cioè riesci a dargli una spiegazione io non sapevo perché tendevo a pensare male tendevo ad avere quest'ansia e poi tutto ha avuto un senso perché io ho paura di essere ferita di nuovo il fatto è che dovevo capire che se voglio stare in una relazione sana devo aprirmi con l'altra persona e irrimediabilmente e inevitabilmente e inevitabilmente devo essere vulnerabile perché altrimenti non sarà mai una relazione sana una relazione in cui si può parlare di tutto e dirsi tutto e non è assolutamente quello che volevo quindi sono contenta di essere riuscita appunto a sbloccare questo meccanismo perché dentro di me quando ho visto quel video qualcosa si è sbloccato io con questo ragazzo sto imparando piano piano perché non è semplice ad aprire il mio cuore a dare fiducia a parlare in modo estremamente assertivo cioè tutto quello che mi viene in mente lo dico sapendo che dall'altra parte non ci sarà mai un problema questa forse è la cosa più bella perché nelle relazioni con narcisisti nelle relazioni tossiche si è sempre sui gusci d'uovo si è sempre sul chi va là perché non sai mai quando l'altra persona si arrabbierà con te o troverà uno spunto un motivo per litigare ed è molto bello con la persona che ho accanto in questo momento perché non c'è mai questa cosa cioè è una liberazione stupendo ma è strano per me perché effettivamente non sono abituata ad essere trattata evidentemente così bene che fa veramente un po' un po' forse triste da dire però non sono non ero abituata ad essere veramente ascoltata e soprattutto non sapevo che cosa volesse dare fiducia al 100% forse perché non ero mai riuscita a dare fiducia al 100% mentre adesso sto imparando a farlo sto imparando a non pensare male perché so di non poter pensare male di questa persona sto imparando a lasciarmi andare completamente e vi garantisco è una sensazione bellissima quando sei abituato nelle relazioni a stare sempre 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 in una situazione di fight or flight è molto bello riuscire finalmente a sentirsi tranquilli e soprattutto al sicuro cioè sapere che sapere che io sono al sicuro e che la persona che ho accanto vuole tutto il bene del mondo per me e sembra una cavolata però per me era veramente difficile dare la mia fiducia completamente in modo da stare tranquilla e nonostante questi pensieri continuino ad uscirmi molto spesso e quindi penso ok devo bloccare cioè io ho avuto diverse volte questo pensiero no ok devo bloccare tutto è meglio così perché è meglio che io sia sola cioè vi rendete conto io ho incontrato la persona che volevo incontrare che veramente è meglio di quanto potessi aspettarmi e comunque ero pronta a lasciare andare tutto per la paura di stare male sei talmente tanto spaventato non ti rendi neanche conto di essere spaventato che quando è il momento di aprirti con l'altra persona ti chiudi in te stesso e piuttosto scappi è un po' come se in fondo in fondo chi ha nella mente questi meccanismi pensasse di non valere abbastanza perché io ad un certo punto mi sono resa conto di questa cosa mi sono detta ma perché nel mio inconscio penso di non meritarmi una persona che veramente mi vuole bene e che mi vuole bene incondizionatamente cioè perché quando mi capita devo per forza pensare che non posso essere vero che debba esserci del marcio sotto perché non posso accettare il fatto di essere amata davvero e di essere amata per quello che sono cioè per la me che sono davvero perché e vi ripeto è una cosa di cui non mi rendevo conto e ho iniziato a rendermi conto da poco quindi sto anch'io ancora leggendo molto sull'argomento perché è veramente un argomento intricato complicato ma una volta che ti rendi conto di avere questo chiamiamolo problema diciamo questo metodo di difesa una volta che ti rendi conto si illuminano mille lampadine veramente e ti rendi conto di tantissime cose sbagliate che hai fatto almeno per quanto mi riguarda è stato così non appena io non sapevo neanche che esistesse l'autosabotaggio nelle relazioni non ne sapevo nulla non appena ne ho sentito parlare ho detto oh mio dio quella sono io oh mio dio ho fatto questo oh mio dio e in fondo in fondo vi devo dire la verità sono comunque felice perché è un po' un modo cioè felice no allora riformulo vi devo dire la verità sono comunque fiera del fatto che voglio difendermi ok perché mi voglio bene voglio difendermi perché non voglio più soffrire però è anche giusto non volermi difendere isolandomi perché in realtà se ho trovato una persona che merita veramente perché non godermi quello che ho perché sabotare tutto isolandomi perché un po' nella mia mente c'era questa cosa no io devo restare sola io devo stare sola io da sola sto benissimo non voglio avere nessuno non voglio avere neanche nessuno con cui messaggiare non voglio avere niente cioè avete presente quando hai una persona che controlli le storie se vedi che ti guarda le storie anche se insomma con tutti i follower che è un po' difficile su instagram però ecco non volevo neanche avere niente e mi sono resa conto che non vale la pena isolarsi solo per la paura di soffrire e mi sono resa conto che è giusto si proteggersi ma lo si fa essendo assertivi nella relazione e non facendosi mancare di rispetto così mi devo proteggere non mi devo proteggere isolandomi e trovando ogni minima cosa negativa che mi faccio io cioè che mi invento nella mia testa perché poi psicologicamente il nostro cervello ha questa cosa strana che quando ci autoconvinciamo ok di qualcosa tutto quello che vediamo ci dà un ulteriore conferma di quello di cui ci siamo autoconvinti quando magari non esiste né quello di cui ci siamo convinti né tutti gli altri segnali o indizi che siamo magari convinti di vedere mi sono resa conto che è molto importante non pensare al passato a quello che è stato non confrontare le persone con altre persone che abbiamo incontrato nel passato perché non è una cosa corretta verso di noi perché ci fa stare male o non è una cosa corretta verso la persona che abbiamo accanto bisogna essere abbastanza forti da non ascoltare quella vocina nella nostra testa che ci dice le cose negative non solo nel tema dell'autosabotaggio delle relazioni ma in qualsiasi momento della nostra vita ecco è sempre bene non ascoltare costantemente quel flusso di pensieri che abbiamo ma soffermarci sul momento presente lasciando stare tutte le preoccupazioni per appunto il futuro presente passato e cercare di concentrarsi solo sul momento presente vivendolo questo personalmente mi aiuta tantissimo mi aiutano tantissimo le rassicurazioni che la persona che ho accanto mi dà se la persona che avete accanto vi vuole davvero bene non smetterà di darvi rassicurazioni soprattutto se si rende conto che ne avete bisogno quindi si se pensate di avere questi meccanismi anche voi all'interno della vostra testa io vi consiglio di informarvi un pochino di più magari prendete questo mio video come primo spunto e poi informatevi un pochino di più appunto sul tema perché appunto per quanto mi riguarda stavo per autosabotare e questa persona non se ne è neanche accorta perché era tutto nella mia testa e poi non ho agito per fortuna ma si rischia veramente di perdere delle persone che magari possono diventare molto importanti per noi e che magari ci vogliono bene genuinamente ed incondizionatamente e soprattutto se arrivate da una relazione appunto tossica che in cui siete stati molto male questa cosa è molto più probabile che tendiate a farla quindi mia family questo è tutto per il video di oggi sono sicura che ci sarà qualcosa e mi sono dimenticata ma se avete domande veramente qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti e vi risponderò sotto il video è un tema davvero molto molto interessante secondo me se ne parla troppo poco quindi spero vi sia piaciuto questo video se è così lasciatemi un like mi raccomando e iscrivetevi al canale attivando la campanella io vi mando un bacio gigante come al solito il nostro abbraccio finale non può mai mancare quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao